Il primo gennaio 86 sono quasi 40 anni di vita in Confcommercio, ho preso un'associazione che è l'associazione dei commercianti con presidenti molto importanti Enzo Mancini, Marco Marchetti, Dante Musso, fino ad arrivare a Giuseppe Berti, Giancarlo Pedinotti e Angelo Serra che è l'associazione dei commercianti e l'abbiamo insieme ai dirigenti, insieme a tutti i collaboratori, trasformato la Confcommercio in quello che è oggi, la grande associazione di imprese di tutti i settori, abbiamo trasformato il mondo del turismo con la creazione della Federalberghi Peso Rubino, abbiamo creato l'associazione Ristoratori che prima non c'era ed è l'unica associazione di ristoratori della provincia, abbiamo realizzato tantissime iniziative su in tutto il territorio dove abbiamo 15 sedi e tra l'altro sedi che sono state in questi anni, in questi ultimi anni sono state aggiornate, ristrutturate, penso alla sede di Fano, alla sede di Gabice, quella di Urbino, abbiamo creato un progetto per l'itinerario della bellezza che ci sta dando molte soddisfazioni sia dal punto di vista turistico ma anche economico debolire, con 5 comuni che inizialmente affidarono l'incarico della promozione alla Confcommercio e che oggi sono diventati 29 nell'anno prossimo, quindi è difficile un minuto elencare tante cose fatte ma insomma c'è grande soddisfazione personale per quello che abbiamo fatto e quindi di questi tanti anni, questa vita sicuramente non è stata sprecata, non ho nessun rammarico, abbiamo superato anche momenti difficili, sono felice di quello che abbiamo fatto e di quello che ovviamente continuerò a fare per Confcommercio fino a quando i dirigenti vorranno. Il momento più basso sicuramente sono state le due vicende, quella del Covid che ha riguardato tutte le imprese, tutte le associazioni con le difficoltà del mondo economico e l'altro invece aspetto che ha riguardato soprattutto noi, questa iniziativa imprenditoriale che non è andata bene, questa del Cubo, questo tentativo voluto dai dirigenti, da tutti noi insomma, di creare un centro commerciale all'interno del centro storico, favorendo la presenza, la partecipazione dei commercianti del centro che non ha avuto i risultati sperati e ci ha creato anche dei problemi economici, diciamolo onestamente. Vedo che poi dopo c'è stata la gestione del compianto amico Massimo Sierra, ma sono entrati poi in questo contenitore aziende della grande distribuzione, anche nel settore della moda, H&M, per non fare nomi insomma, quindi era un'iniziativa anche giusta, gestita probabilmente non molto bene. In Pantofole da oggi in poi non la vediamo proprio? No, 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 c'è tante cose da fare. Quando non ero ancora pensionato, pensavo che andavo in pensione, lasciavo la ConfCommercio e incominciavo a viaggiare, soprattutto all'epoca pensavo mio figlio abita in Cina, vado un po' in Cina, eccetera. Poi invece sono andato in pensione, non mi sono messo le pantofole, ho continuato a muovermi, a girare, a fare, anche perché un'associazione come la ConfCommercio ha necessità di essere presente, visibile su tutto il territorio, poi ci sono le relazioni che devi fare a livello nazionale, a livello regionale. No, non sono stati in pantofole in questi anni, non credo che ci andrò insomma. In futuro l'associazione credo che certamente cerchiamo di avere un rinnovamento, perché con i tempi che sono dobbiamo cercare di riorganizzarsi un po'. Quello che vediamo per il momento è che l'Agnese, che è il vice direttore, farà il consiglio del direttore e per vedere di riorganizzarsi e decidere chi eventualmente un giorno riassume un altro direttore e che porterà avanti sia la linea che il CDA di ConfCommercio e stiamo valutando, studiando, vedendo cosa possiamo migliorare per dare sempre dei migliori servizi ai nostri associati.